Il testimone, a parte della fatica e dei bianchi in base, io non farei tutta la vita per me e come condurre saremo l'aspetto di portare a terra certe figure in bene o in male. Io credo che questo sia un punto estremamente interessante. Tendenzialmente, ma ancora il consiglio, giustamente noi limitizziamo, perché hanno fatto una cosa perché anche sapendolo oggi in che condizione lavorava, tu dici, io quando vedo, vedi la capire che Giacomo è un uomo che l'ha presa da destra a sinistra. Come dicevamo prima, non è possibile che se c'è un supermercato a Trapani, con credo 500 impiegati, perché un supermercato gli fa benissimo, poi lo sequestrano giustamente perché M è di Matteo che si è verano e lo Stato prende, viena a profettare di quel supermercato e 500, lavoratore di Pistoli perde l'oro. Non così non vinciamo. Cioè non può essere lo Stato sinonimo di disorganizzazione. Come diceva Falcone, durante il maxiprocesso, aspettavamo la facciata della finestra a vedere come finiva la corrida, perché una cosa non ci riguardava. Adesso è evidente che la cosa ci riguarda, questa considerazione che la mafia era un problema folcloristico del Sud, questa considerazione qua ha fatto sì che la dranghita si è mangiata a Milano perché poi a Milano c'è il leghista che fa i sedili, le panchine della piazza scomode così l'extracomunitario non ci dorme la notte e qualcuno gli deve dire guarda che l'appalto l'ha vinto per costruire la panchina l'ha vinto l'azienda dell'andrangheta. Questi stanno mangiando il nostro paese e noi stiamo qua a guardare altro nella vita. Questi sono gli errori che abbiamo fatto, non rifacciamoli. il Comune di Lampate, vicino a Palermo, aveva segnato Ultimo, anche qui ci sarebbe da lui un carico, e ci va da Lumpova a ritirare perché Ultimo non ci va andare. E questo premio della legalità era stata, scoperto che era organizzata la mafia, cioè aveva fatto il quadrociglio della mafia. Io ho fatto fatica, ho fatto un piccolo di mafia, la mafia dal padrociglio ai freni. Grazie. Grazie.